è un concetto di capolanno qualità e professionalità salve a tutti ragazzi benvenuti in un nuovo vlog notturno non ci vede niente non lo so si vede niente ecco è agghiornata è agghiornata bene ragazzi oggi siamo giunti a un nuovissimo video poco fa non si vedeva niente adesso si vede peggio però va bene così va bene e siamo che ora sono che bell'orologio sono mezzanotte e 20 20 si mezzanotte si però se ancora che moriamo perché un po' di umore le 40 sono mezzanotte e 40 oggi sono io il cameraman l'altra volta guidavo io e James faceva il caramanenne e io ora faccio il caramanenne e guida James ah se non dimenticato la cintura mi raccomando ragazzi mettetevi sempre alla cintura il Gino operatore aspetta come se passa ma cos'è che sta succedendo James prendiamo vino mentre cacchiamo il Gino operatore Gino operatore Gino a sconfiggio aia 50 mila linee bella questa lampina che ci sembra possibile per un nuovo film nuovo film intitolato il telefono lampada aia aia che cosa a scappa Bon palermo di notte non vi auguro niente sono a 4000 isola non trovo un altro poco come si succede 12.800 iso ragazzi non vi auguro niente è Natale, è Natale la Maginosa Palermo di notte vista da un bambino la benzina, 1.55, senza la benzina cala, fanno macchina la macchina è Beturbo, 2.500 diesel qui siamo alla Flavigienosa qui siamo alla nostra carissima Palermo no, via Oretto oggi spererete Palermo con me e James è James ora possiamo andare pure a Mondello andiamo a dargli i pezzi cinematografici a Mondello a Mondello che ci ha vinto da fare se c'è qualcuno va bene speriamo che sia facile go shoot abballamo in cosa ne vuoi cacchino ancora siamo a Natale cacchino cacchino aspetta siamo il 21 dicembre per Cameriglia che si morirà sono al 17 cacchino 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 ecco questo vlog lo chiamerò Giremo Palermo insieme cacchino cacchino hai visto? ma come funziona? ah è vero siamo arrivati nella famosissima via Roma tutta al buco questa è bella questa è la macchina che c'è è la barata scusa l'anzolio è la barata benvenuti a Palermo papà papà vlog anche in 4k ciao 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 qui c'è l'angolo dei giovani noi per tutto siamo anziani ce l'ha passata siamo anziani siamo anziani cacchino cacchino pole ti ama ti ama il pole ti ama pazzata 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 nelle vie di Palermo più strette dove c'è un back down questa cosa che diseggenza è un concetto di capolanno che ha fatto che ha fatto che ha fatto un concetto di capolazione che ha fatto che ha fatto la parte che è Allora vende lì se è buon labbossetto Te la vede, dai Buon mamma, l'acqua mi chiede Vole si scala Sì, non mi chiede Vole si scala Vole si scala Vole si scala Ah no, lo faccio, ma c'è un mousse con il genio. C'è un mousse con il genio, ma c'è un mousse con il genio. Pubblicità alle palle, le palle siciliane. Insieme ai dolci siciliani, il tipico pannotto. Siamo ancora qui. Sì, alle 3 di notte. Al semaforo. Gianni sono. Come facciamo a diventare famosi? Ci fanno peggio. La strada di Mondello, c'è la Monnizza, c'è James. Siamo ancora svegli. E c'è la desolazione. Un deserto totale. C'è una mini poverina costeggiata. Abbandonata. Il Mondello desolato. Un cristiano, Gesù. Come cosa fa? La strada di Mondello, feel lavitarestate fatale. va bene ragazzi il video si conclude qua per questa notte è tutto mi raccomando iscrivetevi al canale cliccate mi piace e condividete alla prossima ragazzi allora ragazzi una buona notte a tutti e iscrivetevi al canale ciao sono le 5 e 21 e abbiamo fame sono le 5 e 21 di pomeriggio di mattina sono le 5 di mattina andato ad approcciare per rapire due poveri pezzi di rossicceria che sembra una candy camera un scontrino controllato e assassin creed sta per approcciarsi qui con i due pezzi e voilà i pezzi sono qua ma che è di nuovo uguale uguale ma gognati stai mangiando proprio con un cavallo come è buonos Allora